Mostrami un collettivo di giovani artisti, pittori, scultori, fotografi, street artist e video artist uniti insieme da questo progetto artistico-culturale all'interno di una realtà no profit. Abbiamo trovato che il progetto La Rinascita del Cuore Giovane fosse assolutamente in linea con quelle che erano le nostre aspettative quando abbiamo ideato Artbeat, che è volta proprio a supporto delle regioni del centro Italia che sono state recentemente colpite dal terremoto. Oltre 50 artisti, soprattutto i nostri giovani artisti, hanno donato almeno un'opera che verrà messa in mostra e all'asta durante questi due giorni, sabato 3 e domenica 4 dicembre, qui a Your Room in Isola, a Milano, in via Pastrengo 14. Durante appunto queste due giorni ogni visitatore avrà la possibilità non solo di vedere la mostra, non solo di vedere diverse performance che i nostri artisti metteranno in campo, ma anche di fare una propria opzione oppure di aggiudicarsi immediatamente un'opera. Mostrami è un progetto rivolto alla promozione dei giovani artisti ed è molto bello che i giovani artisti possano supportare i loro coetanei che a causa del terremoto hanno dovuto interrompere le loro attività. Abbiamo voluto concentrarci in particolare sui giovani imprenditori sotto i 35 anni che hanno in quelle zone avuto aziende agricole o allevamenti danneggiati che fanno un pezzo di economia importante e che in questo momento sono in difficoltà incredibile appunto per gli effetti del terremoto. Imprenditori, imprenditrici che con l'allevamento ad esempio di razze particolari mantengono tradizioni ma mantengono anche il territorio in buono stato perché ovviamente per loro è fonte di vita, di guadagno, di economia, di una solidità che in questo momento hanno perso. Teniamo conto che ad esempio il terremoto ha stravolto completamente proprio la parte naturale di quelle zone. Ci dicevano che sono sparite delle fonti, l'acqua ha preso corsi diversi proprio per gli effetti del terremoto e per chi fa allevamento ad esempio è un problema veramente grande. Quindi aiutare queste persone nel cercare nuove opportunità, nuove possibilità in quel territorio ci è sembrato fondamentale. Grazie a tutti.